Eccoci accompagnati Nino Cagliardi, insomma arriva soverato oggi qui a Santeria, la partita era molto difficile, c'è stato ovviamente per te poco tempo per lavorare in palestra, nonostante tutto hai trovato nel terzo set quella chiave di volta che ha permesso all'Assidec di vincere il set e soprattutto nel quarto si è rischiato di vincere anche quello. Sì, diciamo che il rammarico è come abbiamo giocato i primi due set perché abbiamo veramente concesso tanti errori all'avversario, anche errori che onestamente dobbiamo evitare se vogliamo giocarci le partite in tutto il campionato perché sicuramente non ci sono squadre che ti lasciano andare nel momento in cui tu commetti questi errori, quindi è chiaro che il rammarico è quello. Poi la squadra è stata brava nella reazione del terzo e del quarto set, peccato anche il quarto perché avevamo ad un certo punto anche 4-5 punti di vantaggio, siamo arrivati 16-13 per noi e poi ci siamo persi strada facendo. Sicuramente sappiamo benissimo che c'è tanto lavoro da fare e noi siamo pronti a farlo per cercare ovviamente di venire fuori da questa situazione. Tra l'altro settimana difficile, impegnativa perché c'è subito il turno infrasettimanale a Marsala, poi si torna qua contro Perugia, insomma poco tempo per lavorare in paresta, si deve dare il massimo. Sì, diciamo che quando c'è stato il cambio eravamo consapevoli di fare tre partite in sette giorni, quindi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però noi abbiamo l'obiettivo di lavorare giornata dopo giornata e settimana dopo settimana e poi vedremo dove arriveremo. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, viva il lupo.